Adesso questo è il backstage di questa musica fa. Come ti senti Rufio? Ti senti bene? Mi raccomando piano. Un po' teso perché se rompe la macchina la paga lui, la paga lui, questa è la grande verità. E con il cazzo gli diamo i soldi. Federica già sta trovando dei soldi da qualcuno per pagare. C'è la telecamera che può riprendere? Oppure ci va installata la telecamera lì? No, no, stiamo già riprendendo. Ah, già ci sta la telecamera dentro, ma quella è a raggi infrarossi? No. Eh sì, è a raggi infrarossi, sennò come la comandi? Eh sì, perché se quello diceva lei, ci dovrebbero essere quelli professionali, invece quella si vede solo la staffa. Sì. Però dentro la staffa c'è la telecamera. Eh sì, sono le microcamere, nuove tecnologie. Sì, sì, sì. A raggi infrarossi, insomma. Sì, 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 esatto. Così poi mandi il segnale e la riprendi. Così abbiamo noi un bottone della polizia, noi abbiamo un bottone qua. Sì. Un bottone qua, lei fa i film come da qui in fondo. Perché lei è della polizia? Sì, si vede alla perfezione, si vede. Vero? Un bottone così, ancora più piccolo, come questa la camicia, ma così. Che figata. Io me lo metto qua, dalla nuova tecnologia, signorina. Si vede, si vede perfettamente. In HD. In HD. In HD.